Mi chiamo Santi Bruno, ho 87 anni, faccio l'istituto di sci e mi sento bene la sera. Qualche problemino ce l'ho anch'io, come tutti. Un'ora di ore ne faccio molte meno. La montagna è cambiata, è cambiata in peggio, diciamo, perché veniva tra 4 metri di neve. Quest'anno è questa la neve, se vengono delle giornate più calde, le piste cominciano, la neve andare via. Se si arriva a maggio è dura, ma non ci si arriva a maggio. La neve continua che manca, perché ci può essere ora un mese la neve, ma in un mese non si risolve una stagione. Questo è il discorso. Sono le stagioni di ora che sta cambiando tutto. Allora, se andiamo di là, fai questo, ti pieghi, brava, vieni ancora. Poi torniamo dritti, pari. Ora su, ti alzi, pari, ora giù, piegati. Vieni, qui qua. La prima volta che sono salito sull'isci, avevo 6 anni. Venne giù una bomba sul tetto della casa, dove stavamo. E' un tempo di guerra. Allora, a quel punto, dovevamo sfollare, andare su, perché c'era mio nonno che aveva una casa sotto ai piedi del Cimone. Però, io andavo a scuola, e la scuola era in paese. Nel scendere, mio padre mi aveva fatto un paio di scettini di legno. Io le mettevo, e poi giù, a diritto. Però era una mulatiera. E delle volte era in pendenza così. E a quel punto, mi piantavo nella neve, perché a quei tempi veniva 3 o 4 metri di neve. Mi piantavo nella neve, e poi riuscivo a ritornare. E poi ho continuato, ho continuato a sciare. E dopo facevo le gare, e vincevo abbastanza. E allora, il mio padre mi disse, figliolo, devi smettere di fare le gare, perché se ti rompi una gamba, non c'ho neanche i soldi per portarti all'ospedale. Però, ero d'accordo con mia mamma. Andavo a fare le gare, lo stesso. E vincevo. A me spostava vincere, perché, dico, è la coppa poi che... Che faccio? Allora, c'era una stallettina dove si teneva la legna. C'era un soffitto di legno. E io, quando vincevo la coppa, la nascondevo in questo soffitto di legno. Dopo 4-5 anni, succede che mio padre mi fa, oh bimbo, cade giù il tetto a quella stallina. Mi dai una mano che rifacciamo la copertura. Si tolse la copertura, e c'era tutte queste coppe. Dice, e queste che sono? E dico, papà, guarda, non te l'ho mai detto. Ma io ho sempre continuato a fare le gare. Madonna, dice, ma se era così, te li lasciavo fare lo stesso. Ah, dico, ma l'ho sempre fatta. Poi ti alzi, paralleli gli sci. Via, giù, più veloce, via, vieni, giù. Qual è la prima cosa che lei dice quando deve insegnare a qualcuno a sciare? Di piegare i cavigli al ginocchio in avanti, leggermente il busto. Non dobbiamo rimanere rigidi, specialmente alle persone più adulte, perché ai bimbi, no, i bimbi sono sciolti, sono sciolti. I bimbi imparano per assimilazione. Se io mi piego così, il bimbo si piega così anche il bimbo. Mentre l'adulto è molto più difficile fare scuola agli adulti che ai bambini. Ci vuole doppia pazienza, tripla pazienza, perché l'allievo cambia e allora cambiare anche la terminologia. E poi c'è chi ha paura, chi non ha paura. Come fa la sua età a riuscire a fare tutto questo? A fare tutto questo perché mi sento bene, perché faccio sport anche l'estate, perché cammino. Fumare non fumo, bere non bevo. E mangiare di gran minestroni mi faccio, per conto mio, perché sono rimasto vedo, di me padelloni di minestroncoci e mangio quello. La montagna è cambiata, è cambiata in peggio, diciamo. Questo mese abbiamo avuto 4-5 giorni di temperatura sotto agli 11, 13 gradi sotto zero. Oggi siamo già 5-6 sopra, nel giro di due giorni. Perciò cambia, cambia. Uno si copre, io ieri ero coperto, mi sono dovuto togliere la giacca, attaccare un pallo perché si sudava, come quest'oggi. E questo è un male anche fisicamente, fa male anche fisicamente. Una volta invece febbraio, freddo tutto il mese, febbraiozzo, corto e aguzzo, dicevano. Vuol dire che è corto, corto, però aguzzo che le giornate erano molto fredde. Cosa che ora non è più così. Quest'estate eravamo senza acqua, veniva un temporale che portava via tutto e poi dopo basta. Lo stesso è la neve, se non c'è neve, non infiltra nei terreni. Dopo è chiaro che a primavera o all'estate manca l'acqua. Preoccupa per i miei figli, i miei nipoti, i bimbi che nasceranno ora, sia per andare in pensione perché anche il lavoro non è che ci sia parecchio lavoro qua da noi, perché all'inverno aprono camerieri, cuochi e tutto, lavorano agli impianti. Ma se non c'è la neve, questa gente cosa fa, cosa mangia? Sta cambiando troppo rapidamente. Preoccupa chiaramente, preoccupa non solamente, ma preoccupa tutti. Grazie. 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 Grazie.